Musica 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 Hola ragazzuoli Benvenuti in questo nuovo video su Vitamods Oggi andiamo a portare l'outfit full invisibile Ragazzuoli utilizzeremo il metodo del creatore Quindi perderemo tutti gli outfit sul primo personaggio Tranne quello che andiamo a selezionare Mentre facciamo il metodo del creatore E poi il secondo personaggio Quindi io vado a selezionare l'outfit che mi piace di più Tra tutti quelli che vi sto facendo vedere Quindi vado a selezionare questo qua white E a questo punto posso iniziare Vado direttamente su Option online E vado su cambia personaggio A questo punto ragazzuoli Una volta che ci troviamo nel cambia personaggio Dobbiamo avere il secondo personaggio E il secondo personaggio deve essere Donna Mi raccomando Questo secondo personaggio lo andiamo a perdere State attenti alla cartellina Alzata Dopodiché una volta che la cartellina è alzata Possiamo selezionare il secondo personaggio Che mi raccomando deve essere Donna Una volta che abbiamo selezionato il secondo personaggio Ragazzuoli Andiamo in una sessione pubblica Se nel caso Nella sessione pubblica Non vi spawnano Tutti i negozi sulla mappa Andate a un lavoro a titano E dopodiché uscite E vi spawnano i negozi Oppure cambiate sessione Entriamo in un negozio qualsiasi Vi faccio vedere che ovviamente Vi ho già preparato Gli outfit che andremo a fare Per velocizzare Ovviamente anche i tempi E andiamo a vedere il primo Come farlo Andiamo innanzitutto Quindi nel reparto Scarpe E andiamo a prendere L'1 su 16 Quindi stivali E poi andiamo a prendere Il 31 su 95 Perfetto Quindi facilissimo Fino ad adesso Dopodiché ci spostiamo su pantaloni Dopo Ci spostiamo su pantaloni Andiamo a prendere Adesso vi faccio vedere Anche dalla clip Il 3 su 17 Ok quindi 3 su 17 Quindi pantaloni Cargo E andiamo a prendere Il 38 su 49 Dopodiché ci spostiamo Sulle parti superiori Andiamo nelle parti superiori E nelle parti superiori Ragazzuoli Andiamo a scegliere Il 4 su 60 Se vuoi vedere anche dalla clip Quindi 4 su 60 E andiamo a prendere Il 6 su 34 Perfetto Quindi Questa qui Foglie di tè Perfetto Ritorniamo ancora Sulle parti superiori E andiamo a selezionare Invece Il 12 su 60 E andiamo a prendere Il 79 su 79 A questo punto Ragazzuoli Possiamo andare invece Nel reparto Accessori Nel reparto Accessori Mi raccomando Non dovete Avere nulla Sulla testa Ok quindi Cappelli Orecchini Dovete avere Niente Praticamente Nada de nada Ok salutiamo Pischemozo Che ci è venuto a trovare Mentre stavamo registrando Quindi bella Pischemozo E a questo punto Andiamo nel reparto Accessori Per finire Questo outfit Ok quindi Reparto accessori Andiamo su guanti E andiamo a mettere Il 32 su 72 Perfetto Il primo outfit Ragazzuoli È già finito Già completato Quindi andiamo Direttamente dalla cassiera E lo andiamo a salvare Sul primo slot Mi raccomando Andiamo a salvarlo Sul primo slot Quindi Adesso andiamo a fare Il secondo Invece outfit Che servirà sempre Per il merge Del full invisibile Ok quindi Serviamo due outfit Per il primo A questo punto Andiamo direttamente Su pantaloni Andiamo su 4 su 17 Quindi andiamo Su pantaloni sportivi E andiamo a selezionare L'1 su 54 Perfetto Ritorniamo di nuovo Sulle parti superiori E andiamo Questa volta A selezionare L'11 su 60 Ora vi faccio vedere Anche dalla clip Quindi 11 su 60 E dopodiché Possiamo andare Su 9 su 17 Perfetto Rimaniamo sempre Sulle parti superiori Quindi una volta Cerchio E andiamo a selezionare Questa volta Il 27 su 60 Ok quindi 27 su 60 Ok perfetto A questo punto Andiamo a selezionare 75 su 92 A questo punto Ragazzuoli A voi Spariranno I guanti Quindi Ritorniamo Su accessori E andiamo E andiamo A rimettere Gli stessi guanti Di prima Quindi andiamo Su accessori E andiamo A mettere Gli stessi identici Guanti Di prima Vado su guanti E vado a mettere Il 32 Su 62 Perfetto A questo punto Ragazzuoli L'outfit Sul secondo personaggio E' finito Sono due outfit Andiamo a salvare Sul secondo slot E una volta Che abbiamo salvato Ci possiamo Ovviamente Come al solito Per chi conosce Già il metodo Il creatore Ci possiamo Suicidare Ok Quindi una volta Che però Abbiamo salvato Quindi io ho salvato tutto Premo il touchpad E vado su Ucciditi Perfetto Quindi ragazzuoli L'outfit Nel secondo personaggio E' finito Una volta Che respawniamo Dobbiamo Semplicemente Andare su Option online E andare direttamente Nel creatore Ok Una volta Arrivati Ragazzuoli Nel creatore Andiamo su Crea una gara Dopodiché Andiamo su Tutorial E accettiamo Il messaggio Arrivati Su questa schermata Che adesso Vedrete Premiamo Option E andiamo Option Quindi online E andiamo Su Seleziona Personaggio Ragazzuoli Attenzione a questa parte Mi raccomando A non sbagliare In questa parte Ok Una volta Che siamo arrivati Su seleziona personaggio Dobbiamo Andare Ad eliminare Il secondo personaggio Attenzione alla cartellina Quindi scriviamo in piccolo Elimina Una volta Che abbiamo fatto Tutto ciò Ragazzuoli Dobbiamo Mi raccomando Attenzione a questa parte Quindi abbiamo eliminato Il secondo personaggio Ne Spunterà Un altro Perché se no Dovete iniziare Tutto quanto da capo Dovete andare Direttamente In storia Con cerchio Ok Quindi andate Direttamente in storia Con cerchio Perfetto A questo punto Una volta che siamo Arrivati in storia Andiamo su option online E andiamo direttamente In una sessione Solo a inviti Una volta che siamo Arrivati in una sessione Inviti Ragazzuoli Spawneremo col primo personaggio E andiamo In un negozio Qualsiasi Che c'è Sulla mappa Ok Quindi in qualsiasi Negozio Che c'è sulla mappa Per andare a completare Tutto l'outfit Io vado a selezionare Un negozio Più vicino Che ho E ovviamente Ragazzuoli Da oggi C'è anche Una bellissima Novità Ok Adesso vi faccio vedere Tutti i vostri Bei commenti Li metterò Nei miei video Io ringrazio Pietro Pio 2005 Per il mio Commento Che ha lasciato Quindi ragazzuoli Da oggi Metterò Tutti i vostri Commenti Nei miei video Allora ragazzuoli Una volta arrivati Al negozio Entreremo Dentro il negozio Dopodiché Andiamo dalla cassiera Salveremo questo outfit Che ci siamo portati Ovviamente da inizio clip Lo vado a salvare Su uno slot Qualsiasi Lo vado a salvare Sull'ultimo slot Ad esempio Quindi il 20 Su 20 Una volta che Ovviamente l'ho salvato Dobbiamo andare A selezionare L'outfit Per il merge Quindi vado su 36 su 50 Sempre qua la cassiera E vado a selezionare Il motociclista Nera Ok Tutta la motociclista Nera A questo punto Sarò pronto Per entrare Nell'attività Del merge Vi ricordo Che l'attività Del merge È un'attività Che si scarica E ve la lascio Sul gruppo Telegram Ok Il link L'ho trovato In descrizione Ci sono tante persone Che vi possono aiutare Anche per il merge Una volta Arrivati Nell'attività Metteremo Mi raccomando Abbiamento Completi Salvati Confermiamo le impostazioni E invitiamo Uno dei nostri amici Ok Una volta che è entrato Il nostro amico Ci mettiamo su Conferma Quindi su gioca E aspettiamo Che si avvia L'attività Una volta che Si è avviata L'attività Ragazzuoli Attenzione A questa parte Su questa schermata Dovete fare Due volte Freccia destra Ok E fare Pronto A giocare Perfetto ragazzuoli Come vedete Abbiamo già il full Invisibile Ma solo nell'attività Al momento Dobbiamo andarlo A salvare In qualsiasi appartamento Io utilizzerò All'Eclipse Tower Non avete L'icona Dell'appartamenti Quindi dovete andare Un po' A memoria Una volta Arrivati all'appartamento Quindi all'Eclipse Tower Ad esempio Sono andato io Usciamo dal veicolo Ed entriamo Direttamente Nell'appartamento Da qui Ragazzuoli Possiamo salvare L'outfit Direttamente Dentro L'appartamento Quindi mi direco Verso il mio armadio Premo freccia destra E vado a salvare Il mio outfit In uno slot Qualsiasi Ad esempio L'ho messo Sempre un tra quelli bassi Quindi 19 Su 20 Ok quindi vado a salvare Il completo A questo punto Una volta che Ho salvato il completo Quindi sono sicuro Di aver salvato il completo Su uno dei miei slot Prendo il telefono E faccio X Quadrato X Ok E uscirò Dall'attività Una volta che sono Respawnato Ragazzuoli Vado a selezionare Il mio outfit Che ho appena creato Nell'attività Quindi questo qua Invisibile Durerà per pochi secondi Ma ora vi faccio vedere Come farlo durare Sempre Però nella stessa Sessione Dove siete voi Ok perché l'outfit In base Rimarrà sempre così Poi dopodiché Lo potete fare Full invisibile In una sessione Ci dobbiamo Recare in uno yacht Che può essere Quello vostro O quello di un amico O qualsiasi altra persona Che c'è nella sessione Non è importante Perché intanto Andiamo ad utilizzare La piscina Che c'è nello yacht Quindi una volta Che siamo arrivati A uno yacht Qualsiasi nella sessione Possiamo andare Ovviamente Verso la piscina Con l'outfit Che abbiamo appena creato Davanti alla piscina Diventeremo CEO Ok quindi Vado a diventare CEO Una volta che divento CEO ragazzuoli Ripremo il touchpad Vado di nuovo Su CEO Vado su gestione Vado su stile Faccio una volta Freccia destra E dentro Nella piscina A questo punto Ragazzuoli Dentro alla piscina Mi devo ritirare Da CEO Quindi touchpad E vado su Ritirati CEO Perfetto Dopodiché Salirò Le scalinate Aspetto qui Non mi fermo Non vado più avanti Ripremo di nuovo Il touchpad Divento di nuovo CEO E una volta E una volta che sono Di nuovo CEO Mi posso andare A suicidare Proprio davanti Gli scalini Della piscina Ok Una volta che mi sono suicidato E sarò di nuovo Respaunato Vado in un negozio Qualsiasi Sulla mappa Potete utilizzare Anche la cabina Dello yacht Se lo yacht È vostro Ma io vado In un negozio Qualsiasi Della mappa Quindi riprenderò Di nuovo La mia Deluxo Mi dirigo Verso Un negozio Qualsiasi E praticamente Abbiamo finito Ok Quindi D'ora in poi Dopo questo trick Che abbiamo fatto Con lo yacht Nella sessione Rimarrà sempre L'outfit invisibile Solo se cambiate sessione Oppure vi sciogliete Da CEO Se ne andrà Come prima Ok Però ovviamente Non lo perderete Avrete soltanto I pantaloni bianchi Come prima Entro Dentro il negozio Ovviamente Qualsiasi Premo freccia destra Vado su completi Salvati E vado a selezionare Quello che ho salvato Dell'attività Come vedete Rimarrò invisibile Nella sessione Ovviamente In questa sessione Se cambiate sessione Vi sciogliete da CEO Ovviamente Dovete fare solo Il trick Dello yacht Quindi ragazzuoli Glitch veramente facile Un bellissimo Outfit Qualcuno me l'aveva Anche cercato Quindi ho deciso Di portarlo Ragazzuoli Se vi è piaciuto questo video Lasciate un bel like Condividete Iscrivetevi al canale Passate anche sul gruppo Telegram E noi Ci vediamo Al prossimo video Bella